Ciao uobini nudi, oggi andiamo a vedere come esportare un gameplay o qualsiasi altra cosa che potremmo fare con la nostra Play 4 direttamente sulla nostra chiavetta USB formatata in FAT32. Andiamo su galleria catture, in questo caso andiamo a selezionare share factory, poi andiamo su clip video, premiamo option nonché opzioni e poi selezioniamo copia nel dispositivo di archiviazione USB. Ci darà anche la possibilità di selezionare più di un video alla volta e una volta selezionato quello che ci interessa di più possiamo fare copia. Ci avvisa che verranno create delle cartelle nella chiavetta USB. L'esportazione è abbastanza veloce, è tolto qualche piccolo impuntamento giusto prima di partire e poi va abbastanza liscia. Fatto questo il file sarà presente sulla nostra chiavetta. Andiamo a inserire la penna USB nel nostro PC, l'apriamo, ci troviamo la cartella PS4 con all'interno due sottocartelle save data e share. Dopo aver aperto share apriamo videoclips, share factory e finalmente troviamo il nostro file. Come vedete un file di poco più di 4 secondi, pesa 4,75 MB, la risoluzione ricordo che è 1280x720 quindi 720p e a 29 fotogrammi. Ragazzi questo non è né un video tutorial niente di tutto questo è solo che ho ricevuto un bel po' di messaggi di persone che mi hanno detto per favore fammi capire come si fa e così ho fatto. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato magari abbastanza interessante, un pollice su, un commento qua sotto. Ciao belli!